In Italia adesso con le notizie e con la pagina politica PD e PDL sono coalizioni disomogenee mascherate da partiti, solo il centro è garanzia di stabilità e di equilibrio. Questo lo ha detto Casini a Roma dove ha aperto ufficialmente la campagna elettorale da candidato premier e ci riferisce Alberto Matano. Ancora una volta la storia ci chiede di essere liberi e forti. Comincia da qui la corsa di Pier Ferdinando Casini, il centro l'unica garanzia di serietà e stabilità dice il leader Udc, l'alternativa Berlusconi che per il governo propone la stessa ricetta del 94 e a Veltroni che si dichiara nuovo per far dimenticare Prodi senza riuscirci. Per il duopolio B e V l'unico voto utile è quello dato al più forte. Arrivano persino a farsi propaganda l'un l'altro. Votate per me Veltroni dice Berlusconi, votate per me Veltroni dice Veltroni, si fanno da spalla. Gentili signori, ma voi pensate davvero che gli elettori siano tutti di vostra proprietà? E da qui Casini lancia alla sfida quello che definisce il duopolio Veltroni-Berlusconi. Il PD e il PDL afferma non sono due partiti ma due coalizioni mascherate da partiti. È il metodo di tutte le oligarchie di potere per mantenere salde le loro poltrone. Anche Putin in Russia parla di voto utile. Se quello è il modello, quella è la strada, non è la nostra. Sul palco anche Doriana, Francesco e Irene sono questi giovani a rilanciare i temi dell'identità cristiana, la difesa della vita, del merito, insomma i valori, i valori non in vendita, insiste Casini. È un'impresa esaltante per l'Italia di domani e insieme a voi tutto sarà possibile.